ciao amici di youtube e ben trovati sul mio canale questa volta sono tornata bionda e vi domanderete perché in questo momento sto indossando questa orribile parrucca bionda ma sto interpretando una delle mie attrici ballerine cantanti che più ammino lei è Cristina Aguilera nel film burlesque e prima di farvi vedere il mio video iscrivetevi al canale per ricevere le news e le notifiche su questo video ciao e buon divertimento ciao 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 Sì, sì... Sì, sì... Sì, sì, sì... Sì? Io sono un buone per le ragazzi! Sì... Grazie per la visione!